I servizi d'asporto dei menù da parte dei ristoranti e dei vari esercizi commerciali dovuto al prolungarsi della zona rossa ha comportato un forte aumento dei rifiuti in alcune zone della città. Dopo numerose segnalazioni arrivate al comune di Fano, l'assessore Barbara Brunori insieme ad Aset hanno pensato di aumentare le isole ecologiche nella zona mare che dal Lido arriva fino alla Sassonia. Saranno due i cassonetti posizionati in otto aree diverse tra queste lungo il molo tra il Lido e l'Arzilla, alla Cavea, vicino all'ex pista di pattinaggio zona ponte e nella piazza del Lido. Per la parte Sassonia invece vicino alla pista di pattinaggio a Rastat, zona Patibolo ed infine lungo Viale Ruggeri. Verranno posizionati due contenitori uno di plastica e uno per la carta proprio per evitare situazioni di disordine e anche proprio di degrado. Questo naturalmente si verifica anche nei quartieri. Per un problema di personale attuale di Aset stiamo cercando di trovare la soluzione migliore perché ci rendiamo conto che oggi un solo passaggio forse non è sufficiente, ne necessita di almeno due. Detto questo la situazione è una situazione temporale, ci tengo a sottolinearlo, quindi mi rendo conto che non è bella da vedere ma è utile proprio per tenere pulito, legato alle chiusure dei locali. Dopodiché tutto tornerà nella normalità. Infine l'assessorato all'ambiente ha lanciato un appello ai cittadini sul buon senso civico. È bene che ognuno di noi sia responsabile della differenziazione del rifiuto ma anche proprio dello schiacciamento dei cartoni perché molte volte andiamo proprio a raccogliere dei contenitori che sono semi vuoti per una mancanza proprio di correttezza e inoltre anche proprio nell'abbandono nelle isole ecologiche di rifiuti che non sono conformi e questo non solo è brutto da vedere ma inquina l'ambiente ed ha una situazione sicuramente di degrado.